Benvenuti nel mondo degli orologi Atelier de Monaco. Atelier de Monaco è un marchio di orologi che incarna la visione dell'alta orologeria con la sua esclusiva firma, Noblesse Oblige. Ogni segnatempo della loro collezione è un tributo duraturo alla nobiltà delle tecniche artigianali, alla bellezza contemporanea e all'eleganza che solo Monaco può offrire. Nel 2008, il marchio ha deciso di creare la propria manifattura orologera indipendente, guidata dalla visione della nobiltà dell'orologeria e contrassegnata da virtù eterne che incarnano il suo spirito e lo stile. Ogni creazione di Atelier de Monaco nasce dal cuore e dall'ispirazione che circonda l'azienda e dalla fedeltà alle più nobili tecniche artigianali che intende perpetuare nei suoi segnatempo meccanici. La collezione di orologi di Atelier de Monaco offre una vasta gamma di modelli, tra cui il prestigioso Poincon de Geneve, che rappresenta l'apice dell'alta orologeria svizzera. La gamma di orologi Atelier de Monaco include anche i modelli Carredor, Classic, Admiral e Saphir. Inoltre, Atelier de Monaco è impegnata a promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale, utilizzando materiali e metodi di produzione ecosostenibili. Questa attenzione all'ambiente si riflette anche nel loro design unico ed elegante. L'incontro ideale tra emozione, tecnologia e savoir-faire preannuncia l'ingresso della giovane manifattura in una nuova dimensione del tempo, percepita dagli intenditori più esigenti. La bellezza contemporanea, l'eleganza e lo spirito di eccellenza sono culminati nell'impegno di Atelier de Monaco per creare orologi destinati a durare nel tempo come testimonianza della nobiltà dell'orologeria.